Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo terzo video del progetto sviluppiamo un robot con tecnologia open source finalmente in questo video iniziamo a mettere le mani su qualcosa di pratico, in questo caso appunto il Raspberry Pi e quello che faremo è continuare il discorso che abbiamo iniziato nel video precedente quindi di come utilizzare Docker insieme alla tecnologia ROS e in questo caso inseriremo dentro il Raspberry Pi quello che impareremo è fare quello che viene chiamato appunto cross compiling oppure cross building cioè compilare, creare un container Docker customizzato da noi per Raspberry Pi utilizzando il nostro computer questo perché principalmente i vantaggi sono due il primo è il fatto che il computer va comunque un pochettino più veloce del Raspberry anche se ormai Raspberry Pi specialmente nella versione 3 è diventata una macchina con i controcazzi scusate il termine e il secondo motivo per cui vogliamo fare questo è perché appunto con il Raspberry Pi l'ambiente di sviluppo del Raspberry Pi è molto più scomodo rispetto all'ambiente di sviluppo di un computer desktop normale prima di iniziare volevo intanto scusarmi per la lunga attesa di questo video sono passati quasi due mesi ormai per quando ho pubblicato il secondo e non mi aspettavo di metterci tanto tempo però come ho accennato a qualcuno di voi sia sul blog che sul canale YouTube che via mail purtroppo questo periodo è stato un periodo abbastanza di cambiamenti tra trasferimento in un'altra città e cambio lavoro e vari problemi con internet ho atteso quasi un mese e mezzo per avere finalmente internet collegato tra l'altro il topic che noi trattiamo è un topic abbastanza complesso specialmente la parte di cross compiling e per Docker su dei computer Intel quindi mi sono preso un pochettino più di tempo anche per studiare e trovare la soluzione migliore per far funzionare in modo più semplice possibile la parte che vi spiegherò oggi prima di iniziare appunto facciamo un attimo un'introduzione vi ricordo dato che è passato un bel po' di tempo che nel video precedente abbiamo visto Docker che cos'è come funziona e come si utilizza per creare progetti e in particolare progetti con ROS vi ricordo che Docker è un sistema che permette di incapsulare un'applicazione all'interno di un container Linux e quindi funziona su qualsiasi sistema basato su Linux appunto quello che vedremo oggi è essenzialmente diviso in tre parti vedremo intanto, scusate, diviso in due parti la prima cosa che vedremo è come configurare lo faremo subito il Raspberry Pi e in particolare l'ambiente di sviluppo che noi utilizziamo e in particolare quello che useremo è un sistema operativo che si chiama Raspbian Lite che è una versione, come dice il termine più leggera, più light appunto di Raspbian ed essenzialmente Raspbian a cui è stato tolto tutta la parte di interfaccia grafica e questo non vi dovrebbe preoccupare almeno Sfero il motivo è semplice i motivi principali sono due il primo banalissimo in realtà è che il fatto che il robot che noi andiamo a costruire non avrà uno schermo quindi è inutile avere tutta la parte grafica installata sul sistema operativo perdiamo solo tempo e consumiamo solamente giga per scaricarlo il secondo motivo in realtà è dovuto principalmente alle risorse computazionali dato che Raspbian scusate che Raspbian è comunque un Linux embedded non ha una CPU molto potente anche se abbastanza potente risparmiare un po' di spazio un po' di risorse che sarebbero appunto sprecate dalla parte di interfaccia grafica ci permette di creare applicativi un pochettino più complessi e di seguire su Raspberry algoritmi un po' più pesanti quindi questa è una parte molto molto importante e delicata a dispetto di non utilizzare l'interfaccia grafica quindi dovremmo smanettare ma già lo facciamo tanto col terminale la seconda cosa che vedremo è come installare Docker su Raspberry Pi questo sarà diciamo come configurare genericamente Raspberry Pi come installarci Docker sopra e come accederci da remoto e finalmente vedremo tutta la parte di cross compiling appunto per utilizzare Raspberry per utilizzare Docker con Raspberry però per eseguire la parte di compilazione sul nostro computer quindi iniziamo con la prima parte quella di come configurare Raspberry Pi e partirò proprio da zero quindi vi farò vedere come installare dove scaricare Raspberry Pi come installare la scheda e come configurare in modo da avere l'accesso a remoto benissimo per prima cosa iniziamo a scaricare a vedere alcuni tool che essenzialmente ci servono per configurare i Raspberry e in particolare l'SD del Raspberry Pi vi ricordo che io utilizzerò principalmente Raspberry Pi 3 o Raspberry Pi 3 Plus teoricamente tutto quello che vi sto facendo vedere dovrebbe funzionare a parte la parte di connessione Wi-Fi sul Raspberry Pi versione 2 purtroppo alcune cose specialmente la parte di gestione sia di Docker che di ROS non funzionano sul Raspberry Pi originale e sulla versione 0 perché la loro CPU essenzialmente il loro ARM utilizza un'architettura che è la versione 6 dell'architettura ARM che non ha alcuni componenti che sono essenziali sia per Docker che per ROS e quindi si fa molta fatica ad utilizzarlo io per esempio Docker in realtà non ci ho provato però non ci sono riuscito ci ho provato un pochettino ROS si riesce a compilare però è molto complicato quindi è una cosa che non vi farò vedere allora dobbiamo intanto per potrebbe sempre le banale quindi se non vi interessa potete andare avanti però in questa prima parte vedremo come installare Raspbian e in particolare Raspbian Lite sulla microSD del Raspberry Pi lanciarlo e configurarlo un pochettino quindi partiamo intanto dal download per scaricare Raspbian basta cercare su Google Raspbian Lite download e vi dovrebbe portare direttamente a questa cartella vedete che ci sono due versioni c'è Raspbian Stretch stretch scusate with desktop che è la parte della Raspbian completo quello magari di cui voi siete più abituati e poi c'è Raspbian Stretch Lite e sono la stessa cosa tranne che in questo secondo diciamo questa seconda immagine come ho già detto prima non contiene la parte di interfaccia grafica quindi contiene solamente la parte da terminale ok allora scarichiamola io l'ho già fatto basta prendere download zip aspetterò un pochettino nel frattempo dobbiamo scaricare un altro tool che utilizzo per diciamo barnare la SD secondo me tra tutti i tool che esistono è quello più intuitivo da utilizzare più semplice tra l'altro supporta sia Mac che Linux che Windows quindi quello che consiglio si chiama Etcher vi metto poi il link qua sotto comunque scritto in questo modo basta cercare Etcher su Google la prima cosa che vi esce Etcher scritto con la CH la prima cosa che vi esce è questo sito dove da qui direttamente fate download per in teoria dovrebbe capire direttamente qual è il vostro sistema operativo quindi nel mio caso già utilizza Mac e potete farlo per Windows o per Linux e quindi fate download ci mette un pochettino di tempo a scaricare in realtà è molto leggero e una volta scaricato possiamo procedere quindi una volta scaricato anche Raspbian sia Raspbian Lite che Etcher possiamo procedere poi ad utilizzarli ok ho scaricato sia Raspbian che Etcher e ho installato Etcher anche quindi per diciamo iniziare a lavorare con la parte di installazione della scheda SD appunto vi serve una scheda SD per Raspberry che mi raccomando deve essere di almeno 8 giga meglio in teoria almeno 4 meglio 8 io utilizzo una da 16 se non sbaglio e quindi ora voi non mi vedete però la prima cosa da fare è prendere la micro SD che voi dovreste avere e utilizzare un adattatore da micro SD SD e inserirlo all'interno del vostro computer che l'ho appena fatto su cui volete installare la e installare il sistema operativo non so se avete visto qui automaticamente Etcher ha riconosciuto che io ho inserito un'immagine e mi ha automaticamente detto guarda questo verrà scaricato nell'immagine storage device bla 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 che è quella che ci interessa e prima di tutto però dobbiamo prendere dobbiamo selezionare un'immagine su cui poi da andare poi a scrivere sulla nostra scheda SD premiamo select image e come vedete qui dobbiamo selezionare una delle cose fighe di Etcher è che non dobbiamo dezippare l'immagine quindi non spieghiamo spazio l'immagine che appunto abbiamo scaricato poco tempo fa che è la 2018 18 418 raspberry pi ok e a questo punto possiamo iniziare a fare il flash quindi premiamo flash vi chiede di inserire la password inseriamo la password e aspettiamo che il tutto finisca ok quando Etcher ha finito di di copiare vi informo quindi vi dice flash complete a questo punto noi possiamo chiudere il programma togliere l'SD e inserirla dentro il raspberry pi ok a questo punto abbiamo bisogno di una tastiera un monitor hdmi e un cavo ethernet meglio il cavo ethernet non necessarissimo però specialmente all'inizio vi conviene utilizzarlo questo perché perché il primo modo il modo di default diciamo più semplice che dobbiamo per connetterci al nostro raspberry pi una volta che l'SD è stata configurata è appunto quello di attaccare un monitor e utilizzare la tastiera ci servirà anche connessione a internet e vi farò vedere in questo momento anche come attaccarla poi al wifi però quello che vi conviene fare specialmente all'inizio è se ne avete l'opportunità attaccarci ethernet e utilizzarlo direttamente da ethernet vi ricordo anche che se avete stato utilizzato l'SVERY P2 questo è l'unico modo a meno che non avete un dongo wifi per poi connetterlo effettivamente a internet allora la procedura che vi farò vedere la prima è quella di trovare un modo più semplice per connettersi a Raspberry in modo da dover evitare di utilizzare o due computer o comunque di avere monitor e tastiera io l'ho già eseguita però vi faccio vedere essenzialmente cosa come funziona e tutto quanto allora prima di tutto la prima cosa che bisogna fare è inserire l'HDMI e inserire l'SD mi raccomando inserite sempre l'HDMI prima di accendere poi Raspberry Pi perché altrimenti il monitor non viene riconosciuto subito e attaccare il cavo il cavo USB di alimentazione del Raspberry e attaccare una presa elettrica ovviamente utilizzando la powerbank la prima accensione è un pochettino lunga perché perché Raspbian ha automaticamente un sistema che detecta se l'immagine SD è più grossa rispetto alla quindi se c'è spazio sull'immagine SD ed esegue una procedura di espansione in modo che il sistema operativo occupi interamente tutta l'immagine SD che ha disposizione questa procedura richiede però che il Raspberry venga un attimino l'immagine SD venga un attimino modificata e il Raspberry automaticamente si riavvia quindi essenzialmente la prima volta che l'accendete lui fa un riavvio due volte dalla seconda volta poi è tutto normale entrate da tastiera il nome utente di default è Pi e la password è Raspberry quindi dovrebbe essere molto facile entrarci e una volta che c'è entrato essenzialmente voi avete l'accesso al terminale come quello che state vedendo qui in questo momento la prima cosa da fare è abilitare SSH che vuol dire abilitare un sistema che ci permette di accedere al termine del Raspberry da remoto in questo modo non dobbiamo più avere poi necessità di attaccarlo a uno schermo o a una tastiera che è una cosa un pochettino scomoda specialmente se ci dovete lavorare da lontano o se avete una scrivania piccola come la mia per farlo digitiamo il comando sudo raspi trattino config come vedete qua e questo vi apre una pseudo interfaccia grafica molto annuttante come vedete con le freccine selezioniamo interfacing option quindi numero 5 e selezioniamo la P2 SSH e a questo punto lui vi chiede would you like the SSH server to be enabled significa volete che la SSH venga essenzialmente abilitata premete yes e ok a questo punto finish e a questo punto a parte questi errori che non so cosa sono dovuti e la SSH viene automaticamente abilitata come facciamo a verificarlo quindi digitiamo ifconfig vedete che dato che in questo caso sono connesso solo tramite ethernet qui vi dice eth0 bla 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 l'indirizzo P è 192 168 1 240 a questo punto possiamo copiare questo indirizzo qua apro un nuovo terminale lo metto sopra così vedete e quello che serve quindi questa cosa qua la facciamo da un computer come il vostro mac o il vostro linux digitare da mac o da linux appunto quindi è un po' più difficile e non lo faccio SSHP chiocciola e l'indirizzo P che è del raspberry quindi 188 288 1 240 premete invio e lui vi chiederà P giusto una nota SSHP è il nome utente quindi se voi avete un nome utente diverso lo avete cambiato dovete settare il vostro e poi chiocciola indirizzo P vi chiederà la password del raspberry non del vostro computer quindi è raspberry premete invio e appunto adesso siete ufficialmente connessi ok prima di procedere vi faccio anche vedere come si configura il wifi e tra l'altro ho appena scoperto che mi sono sempre complicato la vita con con il tool che vi dicevo prima di Acli quando in realtà non lo sapevo ma raspi config quindi il tool che abbiamo visto prima mette già a disposizione un tool comodo per gestire il wifi quindi la prima cosa che dobbiamo fare come avete visto lo rifaccio è di nuovo eseguire il tool sudo raspi config ovviamente questo lo potete fare prima ancora di fare tutto quello che avete visto e quindi in concomitanza con la parte di interfacciamento ssh andiamo sul 2 dove c'è scritto network option e poi n2 che è wifi infatti se vedete c'è scritto enter ssd e passphrase cioè il nome del wifi e la password allora prima di qua io l'ho già fatto prima dovete selezionare il paese vi chiedo di selezionare dove siete ho messo Italia e selezionate il paese dove vi trovate ora è un po' scomodo perché va inserito a mano il numero il nome della rete wifi io ovviamente ce n'è uno complicato e vediamo spero di non sbagliare ok a questo punto inseriamo la password ok ho fatto anche questo e boh e niente questo lo sto provando con voi quindi in realtà non so bene cosa succede ovviamente facendo if config no il wifi non è ancora abilitato vediamo un po' network option network interface would you like to enable network interface ok 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 finish do you like to enable ah ci chiede di di riavviare il sistema ok questo mi mancava quindi adesso a questo punto una volta che si è riavviato aspettiamo un po' credo che dovrebbe ottenere anche un una password wifi se non ho sbagliato qualcosa ok intanto mi riconnetto da mi riconnetto di nuovo da ssh su ethernet e vediamo se ha funzionato if config oh che bello ok vedete if config adesso oltre a ethernet che dovrebbe essere questo che ha cambiato nome perché poi io adesso abbiamo installato anche docker avete anche vlan 0 e con l'ip 190 268 in mio caso 1 202 quindi se adesso provo a scrivere 202 invece di 240 mettere yes per averli perfetto vedete che sono rinunciato ok quindi in questo modo riuscite anche a configurare il wifi in modo anche abbastanza semplice direi a parte dove scrivere a mano oltre alla password anche il nome della rete in realtà la procedura di installare docker è raspberry è esattamente identica a quella che abbiamo visto la volta scorsa per installare docker su linux quindi ti raccomando curl meno ssl hhttps due punti slash slash get docker punto com poi pipe hash e questo qua dovrebbe scaricare se l'ho scritta bene direi di sì scarica e avvia la procedura di installazione del raspberry pi quindi scusate di di docker su raspberry pi e qualche volta vi chiede la password probabilmente su raspberry pi non ve la chiede perché l'utente pi ha già tutti i diritti di 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 root quindi voi potete seguire sudo senza senza che raspberry vi chiede la password ci mette un pochettino di tempo perché lui prima di fare qualsiasi cosa fa l'update del sistema operativo quindi dobbiamo aspettare un po' finché non non funziona tutto ok allora a questo punto docker è finalmente installato come per ubuntu classico lui vi dice di eseguire questo comando qua questo comando serve essenzialmente per abilitare l'utente pi o il vostro ad utilizzare docker quindi seguiamo sudo user mode manager docker pi a questo punto se proviamo ad utilizzare docker vedete che vi da errore got permission denied perché questo comando richiede che la sessione attuale venga chiusa e riaperta quindi per farlo uscite e vi riconnettete quindi uscite da ssh con ctrl d oppure con exit e poi di nuovo vi loggate a questo punto docker dovrebbe funzionare l'alternativa è riavviate raspberry pi e siete più sicuri che funzioni per testarlo come per l'altra volta digitiamo docker run meno t meno t scusate hello world e come vedete lui come al solito vi dice ah non riesco a trovare le immagini hello world localmente scarichiamola bla 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 e poi una volta scaricata la esegue e questo quindi avete docker tranquillamente installato su raspberry pi oltre a docker installiamo anche docker compose che è un tool che diciamo ci servirà dopo è un tool un wrapper di docker che semplifica alcuni processi e per farlo basta digitare pip sudo pip install install se ce la faccio docker compose docker che si scrive così e giustamente pip non è installato in questa versione minimal dobbiamo installarlo a mano per installare pip basta digitare sudo apt get install python pip python pip ok non dovrebbe metterci tantissimo premiamo yes quindi lui scarica e ok fatto e una volta installato pip possiamo installare appunto con pip docker compose questa volta dovrebbe funzionare tutto quanto ok una volta installato dovremmo avere il comando docker compose quindi se scrive docker c vedete che docker compose è installato poi lui vi dice non si usa così bla 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 non ci interessa e a questo punto abbiamo finito di configurare il nostro raspberry pi ora vediamo come utilizzare finalmente docker per fare cross compiling di ross e comunque di ambienti generici sul raspberry pi bene allora a questo punto abbiamo compilato completato la parte di compilazione di configurazione scusate del raspberry pi e ora inizia la parte un pochettino più tosta che abbiamo accennato l'altra volta quindi quella di cross compilare cross buildare per raspberry pi con docker che vuol dire vuol dire che noi costruiamo direttamente che scusate vuol dire che costruire direttamente il sistema configurare con ross e tutto quanto raspberry pi diventa molto complesso ma anche molto lento perché raspberry pi è lento compilare un bel po' di cose non è veloci per farlo la soluzione è quella di usare docker in un modo un po' diverso da quello che abbiamo visto l'altra volta che è quello della cross compilazione e in particolare quello che faremo è emulare un ambiente raspberry pi quindi un'architettura ARM sul nostro computer e questo viene fatto in modo quasi automatico da docker va solo configurato qualche cosina partire da un'immagine che è pronta per docker e per arm scusate e per fortuna la community ma anche ROS mette a disposizione delle immagini già pronte parallele a quelle per intel che funzionano anche su architettura ARM quindi possono agire su raspberry pi e vedremo appunto come configurare tutto il tool di configurazione di cross compiling come fare il deploy su raspberry pi allora in realtà tutta questa parte è un bel po' complicata è anche difficile perché bisogna scrivere un po' che inserire un bel po' di codice le linee di comando è un po' farla direttamente tramite video quindi quello che ho pensato di fare è stato quello di pubblicare un post sul mio blog quindi qui adesso voi potete accedere che vi spiega passo passo quali sono tutte le cose da fare quindi dicevo trovate l'articolo sul mio blog in particolare se andate su ludusrusso.cc l'articolo si chiama buildare e usare container docker per raspberry pi è abbastanza lungo e dettagliato e tra l'altro vi metto poi il link in descrizione quindi così potete accederci direttamente vediamo un attimino di cosa si parla la prima parte in realtà è quella che abbiamo appena visto in questo video e ci spiega essenzialmente come configurare il raspberry pi per utilizzare docker e quindi installare docker con carl ssl user mod quello che abbiamo visto poco fa e lanciare l'ello word appunto quindi per vedere se tutto funziona e tra l'altro installare anche docker compose quindi fino a qui sono le cose che abbiamo già visto qua invece vi spiego un pochettino di pappardella un po' tosta tecnica però almeno vi spiego un pochettino che cosa serve qual è l'architettura che vogliamo utilizzare e come funziona e come funziona tutta la tecnologia in generale essenzialmente quello che dobbiamo fare e appunto come accennavo prima sono due cose la prima è quella di dato che docker appunto se vi ricordate quello che fa in realtà non crea mai un'immagine da zero ma parte da un'immagine esistente per poi aggiungerci cose sopra quindi la prima cosa da fare è partire da un'immagine che è già compilata per arma che funziona già per arma perché? perché se premiava direttamente un'immagine standard per intel su ARM questa non funziona la cosa bella è che i gestori di docker hanno creato parallelamente alle varie immagini che mettono a disposizione come per esempio questa qua Ubuntu 16.04 o le low-word direttamente delle immagini per architetture diverse per accedere a queste immagini noi dobbiamo utilizzare antepor diciamo al nome della macchia da utilizzare l'architettura dell'immagine che ci interessa nel caso per esempio di docker scusate di raspberry pi l'architettura che ci interessa è arm32 versione 7 quindi arm32 v7 slash ubuntu 2.16.04 e l'immagine parallela ubuntu 16.04 di docker per raspberry pi e se proviamo per esempio con docker dentro raspberry a rannare questa immagine questa dovrebbe funzionare normalmente l'altra cosa che dobbiamo fare che è quella un pochettino più complicata però di nuovo docker per fortuna ci viene molto in aiuto è quella di settare il nostro ambiente di sviluppo quindi il nostro computer in modo che possa emulare l'architettura che ci interessa o in generale un'architettura diversa da quella che noi vogliamo utilizzare di nuovo la community di docker mette a disposizione un comando che è molto banale che adesso vi faccio vedere come si segue semplicemente copiate questo aprite il terminale scusate il terminale questo va eseguito sulla vostra macchina linux o mac e non l'ho provato su windows e non su raspberry pi e mi raccomando quindi docker run meno meno remove privilege per questa cosa qua e ora a me da errore perché in realtà l'ho già fatto o no da errore perché non ho docker che sta girando però comunque dovrebbe dare l'errore lo stesso e quindi intanto che lancio docker ve lo spiego e poi ve lo faccio vedere quindi l'idea qual è l'idea è che voi utilizzate un progetto che già esiste che è molto grosso in linux che si chiama qemu che sta per è un emulatore essenzialmente qemu vi permette di emulare una qualsiasi architettura principalmente ARM sul vostro computer intel è un po' complicato da configurare la cosa carina è che docker avete a disposizione questo container qui che vi configura automaticamente tutto quello che serve sul vostro computer quindi voi in realtà non dovete fare niente effettivamente aprite questo lanciatelo sul vostro computer e lui vi configura tutta la parte di di docker tutta la parte di qemu e in particolare qemu per docker quindi questo in teoria basta già da solo per configurare la vostra per configurare la vostra macchina di nuovo l'ho provato sia su mac che su linux in teoria non vi serve nemmeno di installare qemu poi se lo volete installare basta digitare apt-get install qemu o brin install qemu su mac però non serve in realtà quindi una volta eseguito questo comando è tutto quasi pronto che vuol dire che è quasi pronto che è la macchina con l'immagine docker il container docker con un'architettura diversa che voi volete lanciare deve essere configurato in un modo particolare con qemu lo possiamo fare in due modi o possiamo trovare delle architetture delle immagini di container già pronte per questo in particolare esiste un progetto che si chiama multi-arc all'interno di docker che tra l'altro sono gli stessi che poi mettono a disposizione questo container che vi mette già a disposizione una serie di immagini docker già pronte con essenzialmente qemu registrato al loro interno quindi in realtà se noi vogliamo lanciare qualsiasi macchina dentro docker con questa architettura qui cioè con su un'architettura ARM HF o ARM 32F che è quello 32.7 scusate che è quello di Raspberry Pi possiamo farlo ditingendo direttamente a multi-arc intanto docker è stato configurato quindi se io lancio questo vedete che lui mi dà un po' di errori però perché dice per esempio file exist file exist bla 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 in realtà questa è una piccina copia dei file l'ho già fatto io quindi non serve farlo e dicevo proviamo a lanciare una una macchina un container come quella che vi suggerisco qui per esempio multi-arc ubuntu-core 2.1 arm hf wheelie ce ne sono tante in realtà quindi digitiamo sul nostro computer quindi non sul raspberry docker run meno it il nome di questa macchina io l'ho già scaricata e vedete che la macchina parte tranquillamente senza nessun problema tanto se noi facciamo un aim un am meno a potete vedere che la macchina in questione è un arm v7 l quindi non è una macchina intel ma una macchina diversa da quella che è un'architettura diversa da quella che stiamo utilizzando ok quindi questo funziona tranquillamente quindi potremmo noi tranquillamente utilizzare questa macchina e non avere nessun questo container non avere nessun problema e il problema in realtà è un altro che questi container non sono quelli ufficiali di docker e quindi ci sono due problemi principali il primo è che non tutte le macchine docker almeno non subito sono disponibili all'interno di multiarch quindi passate qualche giorno e la seconda è che molti progetti che poi sono stati costruiti sulle macchine ufficiali di docker non sono invece all'interno del progetto multiarch tra questi c'è anche ROS e quindi noi per forza dobbiamo utilizzare una macchina ufficiale di docker come quella che vi ho accennato prima che questa ARM32V7 ubuntu 16.04 quindi ubuntu.04 standard quindi dicevo se invece provate a utilizzare questa macchina l'ARM32V7 quello che vi dice è che vi da un errore che è questo errore qua essenzialmente che è exec user form process caused no such file of directory essenzialmente lui vi dice questo errore vuol dire che la docker quindi l'architettura su cui state utilizzando non è quella supportata dal sistema operativo quindi in questo caso ARM32V7 questa da una parte può sembrare un problema in realtà anzi per fortuna è molto facile da risolvere e quello che bisogna fare è registrare a mano QEMU sul vostro container allora ve lo faccio velocissimo qua è tutto spiegato essenzialmente dobbiamo creiamoci un nuovo progetto ora lo metto test come l'ho chiamato qui così ve lo faccio vedere come l'ho fatto qua allora ok l'ho chiamato docker ing rpi quindi creiamoci una nuova cartella entriamo in docker ing rpi poi dopo tanto la cancello e la vedremo fatta bene con ross e apriamo code qui dentro e quello che dobbiamo fare è creare il file docker docker file scusate e essenzialmente scaricare un file che è un file particolare che trovate qua lo trovate detente a questo link e cliccando qua vedete che vi ho già fatto ho già scaricato questo file inseriamolo all'interno di questa cartella quindi questo file si chiama qmwarmstatic e prima di tutto dobbiamo fare chmod più x qmwarmstatic quindi dobbiamo dargli permessi di esecuzione come programma ok quello che dobbiamo fare è creare un container che è prima di fare qualsiasi cosa parte dal nostro arm32b7 o quello che ci interessa e copia qmwarmstatic in userbin del nostro container quindi basta fare essenzialmente questo una volta fatto questo con docker build meno t chiamiamolo test rp punto dobbiamo compilare il nostro sistema operativo quindi il nostro container docker e a questo punto docker run l'ho chiamato meno it test rpi vedete che un aim meno a questa cosa funziona tranquillamente di nuovo l'architettura è arm e arm v7 quindi che è quella che ci interessa e quindi niente le cose che dovete ricordare sono il primo punto è eseguire questo comando qui questo vi registra i vari vi registra all'interno del vostro sistema operativo questi file magic e la seconda cosa è quando vogliamo utilizzare un container che non è già registrato quindi che non tiene essenzialmente questo file dobbiamo semplicemente copiarglielo prima di fare qualsiasi cosa quindi nel docker file dopo il from ci sarà sempre copy altrimenti poi non vi funziona niente finché non lo fate quella è la cosa bella che una volta che noi l'abbiamo copiata in realtà lui rimane lì quindi se creiamo un'immagine x che all'interno c'è sta copia qua e poi l'immagine x generiamo un'altra immagine y nella seconda immagine non dobbiamo più registrare quindi fare sto copia perché la macchina è già registrata quindi il tutto viene molto facile qui dopo se volete leggere l'articolo vi spiego un po' come funziona tutta questa cosa qua vi faccio un mini esempio di come compilare un altro una macchina un pochettino più complessa che lancia appunto un semplice script python e poi vi spiego come fare il deploy tramite quel tool che abbiamo già visto l'altra volta che si chiama docker hub quindi voi questo lo dovreste già conoscere se avete visto il mio video precedente e niente quindi qua vediamo essenzialmente come utilizzare docker hub con questa tecnica e anche docker compose se volete leggetelo secondo me è un buon punto di partenza quello che faremo adesso è fare più o meno la stessa cosa però invece che fare un'immagine normale diciamo standard in linux riprenderemo il codice l'immagine che abbiamo fatto l'altra volta e la faremo in modo che possa essere eseguita su raspberry pi quindi tendo l'immagine con rosso sopra e il publisher subscriber già pronti ok allora a questo punto siamo pronti direi per iniziare a creare il nostro primo la nostra prima immagine multi architettura e su appunto per su docker per il raspberry pi su rosso e quello che vorrei fare è partire dall'ultima immagine che noi avevamo creato che è questa qua vi ricordo si chiamava ludus russo rosso 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 docker example se ce la faccio ok quello che faceva si quello che faceva non è altro che non so che cosa sta succedendo un attimo ah ok mi sono dimenticato la i ecco perché ok quindi ludus russo run docker run mnt questa cosa qua e quello che facevano è altro che far partire questo script qua che appunto lanciava un publisher non so scrivere di docker quindi di rosso in docker quindi una cosa molto molto semplice apriamo un attimino il docker file e vi ricordo che quello che veniva fatto era essenzialmente questa cosa qua quindi abbiamo creato uno script e una una cartella di script dove c'era un semplice publisher un semplice subscriber scritto in python non li rivediamo e poi abbiamo creato un file che si chiama start che non fa altro che fare il source di ros roskinetic in questo caso e poi lanciare roscore il publisher e il subscriber quindi una cosa molto molto facile quello che avevamo fatto era partire dal da un un file scusate da un container che docker mette già a disposizione questo è un container ufficiale di docker di ros che è ros su due punti kinetic ros space quindi la versione roskinetic era un po' vecchia probabilmente nei prossimi video passerò direttamente a melodic che è una nuova il nuovo ros rilasciato poco tempo fa pochi giorni fa appunto però adesso non voglio complicarvi la vita quindi partiamo da questo mi ricordo quello che vi ho detto prima che è tutte le versioni ufficiali di ros adesso sono scusate di docker dei container docker adesso sono affiancate dalle stesse container però compilati per architetture diverse quello che ci interessa a noi in pratica è l'architettura arm 32 v 7 e quello che possiamo fare abbastanza banale come potete immaginare è prendere questo progettino qua così com'è e farlo diventare un progetto per arm 32 v 7 quello che ci basta fare è appunto aggiungere il tag arm 32 v 7 qui e aggiungere quemo arm static e registrarlo prima di fare qualsiasi cosa ed è proprio quello che ho fatto in questo container qui quindi il container come vedete fa le stesse cose la parte aggiunta è che al posto di ros kinetic ros base ho aggiunto davanti arm 32 v 7 e che poi faccio la copia quindi la registrazione di quemo arm static come abbiamo visto prima e questo è tutto quello che basta per creare il nostro container è diverso dal diciamo il nostro container per docker per raspberry pi invece che per intel per fare le cose pulite quello che ho fatto è creare un altro file che si chiama dockerfile.rp3 adesso vedremo come utilizzarlo che non è altro che lo stesso file appunto con l'aggiunta per arm 32 v 7 ora compilare adesso diventa un pochettino problematico perché noi dobbiamo ricordarci nome di container che è ludus russo nel mio caso ross docker example o quello che volete quello che utilizzate voi dobbiamo ricordare dobbiamo passargli quale file in docker per esempio si può passare un dockerfile diverso con uno diverso dal dockerfile classico e la cosa diventa un pochettino pesantuccia quello che possiamo fare quindi è utilizzare questo progetto che si chiama docker compose che vi ricordo si installa se non l'avete già installato con il comando sudo pip install docker compose su mac viene installato automaticamente su linux invece non è installato dovete installarlo con pip e la cosa è abbastanza facile quello che fa docker compose non è semplicemente altro che creare mettere a disposizione un file molto semplice che si chiama docker compose .yml e il formato diciamo un formato standard dove le informazioni della nostra diciamo di lancio di configurazione di docker della nostra immagine o delle nostre immagini come vedremo tra poco sono già incluse all'interno del file quindi in particolare questo file noi utilizzeremo la versione 3 utilizzeremo sempre la versione 3 e service dentro service inseriremo tutte le nostre immagini i nostri container che vogliamo lanciare il primo container prima abbiamo uno è ROS diciamo che container ROS l'immagine si chiama ludus rus ross docker example e per compilarla deve compilare all'interno della cartella dove ci troviamo quindi context 2.1 significa all'interno della cartella per fare il build e il file docker file si chiama .slash docker file quindi è il docker file normale per compilare questo basta digitare docker compose build ross trovandoci all'interno di questa cartella come vedete lui compila tranquillamente per eseguirlo docker compose run ross vedete che diventa molto più facile non dobbiamo più ricordarci il nome eccetera eccetera quindi è un pochettino più semplice per deployare docker compose push ross basta questo e questo qua semplicemente fa il deploy e ora effettivamente vedete che vi dice l'irexist bla 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 quindi non c'è niente di che quindi fa il deploy dell'immagine che noi effettivamente avevamo già pronta ok quindi fino a qua semplicemente semplifica la linea di comando però a questo punto noi possiamo creare una seconda immagine che chiamiamo rossrpi3 questa seconda immagine copiamo un attimino quello che abbiamo scritto qua quindi il nome dell'immagine sarà sempre ludus russo rossdocker example però diamogli un tag diverso taghiamolo rp3 quindi aggiungiamo il due punti rp3 questo è un tag quindi il nome della repository su docker hub è lo stesso che è questo semplicemente viene taggata con un nome diverso in modo che noi possiamo distinguere quando facciamo il build il context è sempre il punto però il docker file a questo punto cambia e si chiama .rp3 a questo punto possiamo compilare la nuova immagine docker compose run ross scusate non run build build ross trattino rp3 e io l'avevo già compilata prima e poi docker compose run rpi3 e si ross trattino rp3 e a questo punto vedete che se abbiamo fatto le cose per bene un name no a verifichiamo che effettivamente l'architettura è arm v7 quindi quella del raspberry p appunto e giusto una nota allora questo ancora non sono riuscito a risolverlo sono molto convinto che sia semplicemente una questione di una questione di emulazione però ancora non ho trovato una soluzione e quando voi lanciate roscore vi da questi errori qui ci ho lavorato un pochettino alla fine ho concluso che non si può risolvere almeno non in modo semplice però non è un problema perché noi terremo parallelamente queste due immagini quindi l'immagine originale e l'immagine del raspberry pi l'immagine originale la useremo per testarla sul computer quella del raspberry pi poi la faremo girare sopra il raspberry pi a questo punto dato che funziona tutto non ci resta che fare docker compose push ross rpi 3 e come vedete in questo caso viene pushato e ora di nuovo io l'avevo già fatto in realtà quindi lui si accorge che i lier sono già pronti e se andiamo sulla nostra repository come vedete adesso abbiamo il tag lates l'ultimo che in realtà è quello diciamo quello originale e poi il nuovo tag che è rp3 che è la versione per raspberry p3 quindi quella che noi abbiamo appunto compilato adesso quello che ci resta da fare ora io qua l'avevo già accennato come potete immaginare è appunto scusate dobbiamo accedere al nostro raspberry pi con ssh quindi come abbiamo visto prima e a questo punto da raspberry pi possiamo eseguire potremmo usare docker composa anche qua però per ora facciamo prima così possiamo eseguire il comando docker run meno t ludus russo slash ross docker example questa volta due punti rp3 e quello che farà questo sarà scaricare io di nuovo l'avevo già fatto l'immagine che abbiamo compilato prima e a questo punto ho dimenticato la t la i scusate quindi docker run meno i ludus russo rp3 docker example ok adesso siamo dentro il docker container e possiamo eseguire per esempio start.bash se tutto va bene questo non l'avevo ancora provato vedete che con un pochettino di lentezza in più il nostro il nostro container docker finalmente sta funzionando e quindi vedete che il publisher scrive ho ricevuto ho ricevuto hello from docker bla 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 e quindi funziona tutto e ok niente questo era più o meno o no praticamente tutto quello che vi dovevo dire in questo video nel prossimo finalmente iniziamo a fare cose un pochettino più più hard più carine più divertenti e quello che vorrei fare è costruire un docker container che fa due cose ad una parte diciamo legge dati della cpu per esempio del raspberry così vi faccio vedere tramite docker che non è banalissimo come interfacciarsi direttamente con l'hardware del raspberry pi quindi per esempio utilizzeremo un tool in python che ci permette di leggere il carico della cpu e un po' di cose come la temperatura un po' di dati l'utilizzo della memoria ram eccetera eccetera e utilizzeremo ROS per spedire questi dati al nostro computer principale quindi utilizzeremo un sistema multipiattaforma scusate una rete ROS creeremo una prima rete ROS multimacchina dove ci sarà di una parte alcuni nodi che sono quelli che prendono i dati che si trovano su raspberry pi e altri nodi che invece si trovano sul computer principale quindi niente per oggi è tutto di nuovo scusatemi per l'attesa cercherò anche se non con frequenza molto elevata di continuare a pubblicare questo tipo di video come sempre fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se avete suggerimenti eccetera eccetera e ultima cosa tutti i link che vi ho fatto vedere in questo video li trovate qua sotto sulla descrizione del video appunto e niente a questo punto ciao grazie di seguirmi ancora e buona giornata grazie a tutti